E' l'ultimo giorno del mese di maggio, siamo arrivati al 31 maggio 2022, il buongiorno dalla redazione, questa è News Cappuccino Brioche, l'informazione il mattino presto per l'analisi, lo sfoglio dei principali quotidiani locali in edicola, come sapete, troverete oggi. Diamo la buona giornata in ringraziamento però anche a Francesco Snidero che si trova in regia, si occupa della parte tecnica. Ricordiamo la possibilità di interagire, mandare messaggi, inviare dei commenti o dei saluti semplicemente al numero che in sovraimpressione 327 94 39 574. Apriamo con le prime pagine partendo dal messaggero Veneto e quanto è accaduto all'Ordine dei Medici, si apre con infatti la città di Udine, Ordine dei Medici e ancora scontro lo stop. All'Assemblea contrasti su sospensioni Novax e presunte disparità di trattamento, il Presidente sospende la riunione, slitta così l'approvazione del bilancio. In centropagina ieri lo sciopero e la protesta per le scuole siamo i peggio pagati, dichiarano ancora la misura è colma, scuola, docenti, personale, ata, sindacati che dicono basta un sistema disfunzionale da cui cadono dall'alto provvedimenti ingiusti e inefficaci. Sulla sinistra, alla spalla, l'invasione dell'Ucraina, sanzioni, deroga Orbán sul petrolio, ma l'Europa rimane in ostaggio. Il fronte, colpito un convoglio umanitario, un reporter che rimane ucciso, nodi del governo, lavoro, rialzo dei salari, clima teso tra governo e gli imprenditori. Nel taglio basso oggi del messaggero si ricorda lo scrittore deceduto, aveva 108 anni, l'addio a Boris Paco, grande testimone del Novecento. Vediamo anche l'immagine subito riportata, sempre accanto alla notizia. Nella spalla di destra le cronache, partendo dalla prima con il lutto, è deceduto e morto a 85 anni, Terenzio del Sal, l'imprenditore e sportivo. Vediamo il volto dell'uomo e sotto ancora invece l'intervento straordinario, medici che straggono dallo stomaco un orologio, un uomo che aveva ingoiato. L'intervento in emergenza è riuscito così a evitare un intervento molto più complesso, chirurgico. Ritrovano il cane che avevano perso da cucciolo nel 2009, erano passati almeno 13 anni, dopodiché i padroni hanno potuto riambracciare la loro cara cagnolina. Nel taglio alto invece del messaggero abbiamo ancora due notizie in breve. Giustizia civile lumaca, non qui, solo lo 0,08% di lavoro arretrato, vertice di Confindustria FWG, il 9 giugno si voterà di nuovo. Andiamo con il gazzettino. In questo martedì 31 maggio si apre subito con rissa e denunce voto dei medici e dovute intervenire anche la polizia per placare gli animi durante l'assemblea dell'ordine riconvocata per approvare il bilancio. Troppi i presenti in sala. La votazione è stata sospesa. Il presidente Tiberio dice uno spettacolo non edificante. Sono stati sgomberati a fatica. L'infortunio inghiotta e l'orologio è stato tolto dallo stomaco con operazione. L'intervento straordinario è avvenuto grazie alla struttura di gastroenterologia. Siamo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il centropagina, l'acqua per i nomadi in via Monte Seibusi, il massimo sarà quanto registrato, ovvero 10.000 litri al giorno grazie a un riduttore che di fatto dimezzerà l'acqua per loro fornita. Un limite all'acqua per i nomadi è il titolo con questi basta sprechi comune e CAF che installano un limitatore per ridurre il consumo dell'acqua al campo nomadi limitando così la fornitura, come letto sopra, a circa 10.000 litri al giorno. L'incidente, anzi il tragico incidente stradale lungo la strada provinciale 95 ferrata. Un ingegnere di Lignano travolto in auto, ucciso da un camion. La tragedia è avvenuta a Varmo. L'84enne stava svoltando, non si è accorto dell'arrivo. Nuovo incidente mortale lungo le strade del Friuli, si tratta di un pensionato lignanese che ha perso la vita in questo scontro frontale che è accaduto tra la propria auto e un camion. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 11 di ieri mattina. La storia è raccontata anche dal gazzettino, una cagnolina smarrita 13 anni fa che è stata riportata dai suoi padroni che hanno potuto così riabbracciarla. Peteano 50 anni fa la bomba nel cuore del Friuli e un pochino più sotto a destra la scuola docenti e personale in sciopero dicono siamo gli statali pagati meno. Ancora più a destra un sistema ecologico per pulire le chiglie. Vediamo sulla spalla ulteriori due notizie. Per la prima pagina del gazzettino che insieme stiamo analizzando la nuova Tari accende lo scontro in consiglio. Sotto Confindustria ha un nuovo statuto per disegnare il successore di Bono. Nel taglio alto tre notizie in breve. Come di consueto si parte con la notte dei lettori che sceglie la piazza come luogo elettivo dell'incontro del dibattito. In centro estensioni, suoni, voci e profumi di confine in Val Pesarina. Calcio, Serie A, Udinese. I tifosi votano per sottil nuovo mister. Chiudiamo questo tris legato alle prime pagine della nostra regione con il quotidiano Il Piccolo che oggi dedica ampio spazio ovvero mezza pagina occupata da questa grande foto. 1913-2022. Il titolo Boris Pakhor, la voce degli orrori del Novecento. Il caso di piazza Chiudelngreser dopo l'SOS di Tamberi. Il sindaco effettua sopra il luogo. Dice, riapro solo quando la FIDAL mi dà garanzie. A Trieste, Ares, 32 anni, deceduto in scooter, tornando a casa. Era un cuoco l'incidente avvenuto ieri notte che abbiamo letto e appreso dal quotidiano. Vediamo anche l'immagine del giovane che ha perso la vita. Un pochino più a destra, sempre in breve, Duino Aurisina. L'assessore scrive un post contro Segre. Deve dimettersi. Spalla di sinistra per il giornale Il Piccolo. L'economia battaglia in generale dopo l'esposta. Arriva l'inchiesta, lo scontro che finisce in procura e l'incontro welfare aziendare, parità di genere a Balazzo Berlan, la ministra Bonetti. Andiamo a vedere ulteriori informazioni. Nel taglio basso, in questo caso, con l'incidente, l'aereo da turismo che precipita in Croazia. Vi sono quattro vittime, nessun superstite, scrive il giornale, nello schianto alle spalle di fiume. Questo Cessna 182, l'aereo che domenica mattina era decollato da Spalato, dirigendosi verso la Germania. Ulteriori notizie, la prendiamo, non abbiamo il taglio alto e quindi abbiamo completato anche il quotidiano Il Piccolo. Andiamo a vedere allora l'informazione in Italia, con i tre principali giornali più venduti. Sono Corriere della Sera, con Petrolio e il titolo. L'Unione Europea cerca l'intesa, vertice dei leader, Zelensky, i nostri piccoli muoiono, fate presto. Draghi, Putin non vinca. Salto russo, morto un reporter francese, Erdogan al Cremlino. Trattiamo sul grano, armi più potenti. Stop, USA, a destra sulla spalla una politica dell'Unione per l'energia. Gas, sì, al tetto. In primo piano lo zar e i bimbi rubati, Salvini, il caso Copasir. In centropagina abbiamo la foto, in Spagna il panel di Chatti è la prima udienza del processo. L'acido sul viso a due sorelle l'ha lanciato una ragazza. DDL concorrenza, servizi pubblici e balneari arriva all'ok del Senato. Andiamo a vedere come apre anche la Repubblica, subito le misure contro la Russia e quindi petrolio, il sì, all'embargo UUE, via le sanzioni più dure. Nella notte è superato il veto di Orban. Stop, subito i due terzi, poi salirà al 90%, esclusi gli elodotti. Draghi media sullo sblocco del grano di Kiev, dice regia ONU e navi turche. Erdogan tratta con Putin eppure con Zelensky. Ministro degli Esteri, ucraino Kuleba, servono garanzie sui porti. La scuola protesta, a destra basta con i tagli, ma solo il 15% che aderisce allo sciopero ieri della scuola. Centropagina di la Repubblica, la Lega Isola Salvini su Mosca, emergono affari, blef del suo consulente del Capuano. Se il regno di cediananza diventa un alibi, poi si parla di Covid, l'analisi, ecco come sarà la nostra estate. Ancora l'addio invece al grande scrittore che aveva 108 anni, come abbiamo visto anche poco fa nel quotidiano Il Piccolo, ricordano Boris Paco, un uomo contro, più forte del novecento. Si chiude con la stampa. Orbán tiene l'Europa in ostaggio. Draghi Putin non deve prevalere, ma Biden che zela. Zelensky non invieremo missili a medio raggio. L'accordo nella notte al Consiglio dell'Unione Europea, lo stop all'import del petrolio via nave. Ma gli eoleodotti sono esenti dall'embargo. Centropagina francese lavorava per la TV e il trentesimo giornalista ucciso nel conflitto, Frederick, che raccontava la guerra. Vediamo il volto del uomo, del ragazzo che purtroppo è deceduto. Sciopero della scuola, ora diamo ai prof più soldi e più ore, dicono. Dopo le proteste di ieri, la storia Giulia, la regina della filosofia, sotto in breve l'analisi occidente diviso, così vince lo zar. Le idee, beh, USA, calcoli errati, Mosca non si fermerà, geopolitica, il grano nel silos. Da forza all'ISIS. Queste dunque le principali notizie in questo martedì 31 maggio 2022. Ancora il buongiorno, ben collegati con noi, siamo pronti per procedere con l'approfondimento ripartendo dalle news legate al Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo ancora il numero per scriverci, quanti non l'avessero fatto. È possibile interagire, 327 94 39 574. Andiamo con un piccolo break e poi ci ritroviamo qui. Sarà ancora news, cappuccino e brioche. Noi salutiamo, diamo il buongiorno a quanti sono sintonizzati invece mediante il web, ciò significa social, non solo, ma anche lo streaming nei vari siti eppure il canale YouTube dove tutto è possibile rivedere quando volete con comodo. Detto questo vado a chiudere subito le pagine, le prime pagine che abbiamo analizzato insieme partendo da quelle regionali a quelle nazionali e sotto in sua impressione è già pronto il messaggero col quale ripartiremo. Faccio anche un saluto a quanti mi hanno scritto prestissimo, tra questi abbiamo sempre la Florence che batte tutti perché ci scrive alle 6 e 29, ma faccio un saluto anche ad Alessandro che alle 6 e 31 mi scrive per la prima volta. Buongiorno Alessandro che mi sta seguendo da Palmanova. dice Roberto 30 minuti, poi scappo al lavoro. Allora sappiamo che è ancora collegato per circa un quarto d'ora Alessandro che mi scrive per la prima volta e poi se ne andrà al lavoro, del resto come fanno in tanti tutti i giorni. Mamma quanti messaggi, buongiorno Matilde, dice buongiorno dalla campagna, eccoli qui, quelli collegati ad esempio su Facebook. Angela, buongiorno Roberto e un buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon lavoro e grazie per l'informazione giornaliera, grazie Angela, a te ti auguro veramente una buona giornata. Che tempo fa dalle parti della bassa fruilana, qui a Udine è nuvoloso, fammi sapere lì. Ancora Ernesta che dice buongiorno assemblea medici, questi ordini devono essere ricostituiti e Ernesta hai centrato perché adesso ne parleremo, parleremo sia in un giornale che nell'altro messaggero gazzettino di ciò che è successo all'ordine dei medici, l'assemblea sappiamo stata rinviata nuovamente, ma non solo, ci sono state anche denunce e l'intervento della polizia. Ancora scontri per quanto concerne sospensioni, Novax e altro, se i quali non si trovano d'accordo. Comunque ora ti aggiorniamo Ernesta. Michele Di Mario mi dice buongiorno Roberto, buongiorno a tutti, buongiorno a Michele, ancora in bocca al lupo per quello che devi fare, per le tue condizioni di salute e la tua situazione in generale. Grazie comunque che sei fedelissimo e ci segui tutte le mattine. A me fa molto piacere, mi sento un po' a casa, in famiglia, quando vedo che le persone puntualmente ci salutano tutte le mattine, puntano la sveglia e sono con noi. Allora detto questo abbiamo il nostro Francesco Snidero che si trova in regia, lui è precisissimo, mi manda il countdown, mi dice che mancano 20 secondi per tornare in tv e allora approfitto oltre ai vari saluti per ricordare a quanti ci seguono in Intra e sono residenti o si trovano in Friuli, Venezia e Giulia che possono seguirci anche lì sul canale 11 del Digitale. Ancora news, Cappuccino Proci, il buongiorno alle 6.45 del mattino, in questo ultimo giorno di maggio siamo arrivati al 31 ma diamo la buona giornata anche a quanti si collegano più tardi dopo le 8.30 durante la replica. Grazie per i primi tanti messaggi che già sono arrivati, per questo vi ringraziamo e contraccambiamo anche la buona giornata a quanti ce lo stanno augurando. Tra un po' andremo anche nel dettaglio rispetto ad alcuni messaggi come quello di Ernesta Dele Maramdo che scrive buongiorno assemblea dei medici, questi ordini che devono essere ricostituiti, diversi messaggi riguardo proprio mediante l'utilizzo di whatsapp, l'ordine di medici, quanto è accaduto, argomento che affronteremo tra pochissimi minuti. Rimanete con noi, andiamo in ordine, ripartiamo dal messaggero Veneto, giustizia civile in regione, arretrato contenuto anche se manca personale. Nei tribunali i fascicoli aperti da oltre due anni non superano lo 0,08%, gli avvocati con questi risultati dovremmo avere maggiori risorse. A Udine le criticità riguardano non soltanto la gestione del sospeso quanto anche il funzionamento o poi degli uffici essenziali, soprattutto i dettagli riportati in uno schema, tribunale, le province, Trieste, Pordenone, Udine, Gorizia e poi anche le posizioni che vengono quindi sintetizzate. Qui a Udine, Corders, era faticoso migliorare con pochi amministrativi. Pordenone, Tenaglia, un buon risultato frutto anche della produttività e della specializzazione. I cinque quesiti referendari, la difficile impresa di convincere la gente ad andare alle urne, la deputata Seracchiani di fronte del no, va garantita l'informazione, l'assessore Zilli per il sì, così cambieremo la giustizia italiana. Ma noi procediamo e parliamo ancora di sanità e la sua organizzazione a livello regionale con questa centrale unica del 118, la che si schiera, dice, è il modello migliore. Il dirigente Tonuti in Commissione Salute afferma con più strutture il servizio peggiorerebbe. Riccardi predica la calma, i tecnici intanto sono al lavoro, la decisione comunque assicura almeno il vice governatore, la prenderemo entro la fine della legislatura. Vediamo un'immagine con la Sores di Palmanova, infermieri al lavoro nella sala operativa unica del 118. Accanto invece lo straordinario intervento avvenuto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udien dove un uomo è stato salvato dal rischio di peggiori complicanze da un intervento su un 52enne fruilano dopo aver ingoiato un orologio e finito all'ospedale salvato in extremis. Si è accaduto domenica scorsa, la direttrice Beretti dice preleviamo dallo stomaco in media 30-35 corpi estranei l'anno, nulla di nuovo sotto questo punto di vista ma un orologio ancora di plastica non si era mai visto. Lo vediamo nell'immagine riportata, pubblicata poco sopra, integrazione, questo orologio sulla sinistra ingoiato da un paziente che è stato accolto domenica scorsa in ospedale a Udine e poi a destra invece la direttrice della struttura di gastroenterologia, parliamo di Deborah Beretti tra l'altro, ne ho nominata da pochissimo la stessa direttore dopo averne lavorato anche a lungo all'ospedale. Ma procediamo con altri argomenti, l'ARPA si sposterà in fiera a Udine a Trieste, 4,8 milioni per rifarne la sede entro l'estate avremo il trasferimento proprio in uno dei padiglioni che si trovano a Torreano di Martignacco, pagherà 36 mila euro all'anno di affitto. A destra l'aeroporto ritrova la fiducia all'estate migliore del 2019, maggio si chiuderà con un recupero dell'85% dei volumi del traffico che conoscevamo pre-pandemia, quindi almeno quasi tre anni fa. Dopo un duro primo trimestre dell'anno, già ad aprile, i dati ancora dichiarano sono in netto miglioramento. L'economia Confindustria FVG, l'abbiamo letto oggi nelle prime pagine, non si trova l'accordo e quindi il 9 giugno sarà la data dove si voterà. Andiamo verso la presidenza, fumata nera dal vertice di ieri con il nazionale Lambdi, due strade, scontro muscolare oppure diplomazia. Non ci sarebbe uniformità di vedute sui criteri applicabili per l'elezione, almeno così vanno anche ad integrare. Tra un po' procederemo con quanto successo è lo scontro senza fine, lo si può definire quello all'ordine dei medici di Udine, ma andiamo anche nel quotidiano il piccolo. Abbiamo letto due notizie, principalmente uno, la morte a 108 anni di Boris Pakor, questa mattina alle 6 e mezza, priva la nostra rassegna e poi ancora ulteriori news anche di cronaca nera. Andiamo quindi subito all'interno perché le prime pagine del piccolo oggi sono interamente dedicate all'uomo. Noi ne leggiamo solo i titoli brevemente. L'addio a Boris visse e raccontò i dolori. Gli orori del Novecento si è spento all'età di 108 anni. Lo scrittore triestino di madrelingua slovena, testimone di un secolo, ha creduto nella vita nonostante l'esperienza del lager nazista. La sua opera continuerà a scuotere le coscienze di generazione di lettori, ma ancora a destra attraverso le vicende di Radko in uno dei romanzi più famosi rappresentò le difficoltà del dopoguerra nella terra di confine, nella sua scrittura, nei suoi personaggi, la via di salvezza del labirinto delle scelte e poi sotto ancora raccordare il passato e il presente in vista di un futuro ancora incerto. Pagina seguente si torna sempre, si rimane sull'argomento, lo vediamo qui anche con il Presidente della Repubblica in un'immagine, titolo da Magris a Rolpupo, il mondo della cultura, celebra la sua grandezza, il ruolo di interprete della mitoleuropa di Pacor, paragonato a quello di Svevo e Saba. Il saluto di Elisabetta Sgarbi non ha mai smesso di denunciare tutte le dittature. Rumis il nemone del dovere della memoria era la sua forza e poi a destra altri titoli quel giorno storico al Nairobi Dom che Mattarella e Pacor oggi. Ricorda, lo vediamo qui ancora con il cordoglio Franceschini che dice perdiamo un grande scrittore del Novecento che ha saputo raccontare senza sconti i lager. Consiglio comunale rende omaggio, stiamo parlando sempre di Trieste, leggendo Necropoli in aula, assenze però da parte del centro-destra. Ricordo del sindaco di piazza, Pacor fu intellettuale, testimone autorevole, la forzista Brandi però resta fuori, non mi alzo in piedi per un negazionista, così lo definisce. E allora, visto e sintetizzato brevemente le prime pagine, quelle proprio riportate dedicate all'uomo di 108 anni scomparso scrittore, andiamo anche con altre news all'interno nella città di Trieste, la votata finale dell'Aula per il bilancio 2022-24. Oggi si chiude con il voto, ieri la presentazione del documento dibattito, l'assessore Bertoli, obiettivo una città attrattiva per residenti e turisti. L'ARPA cambia rotta, resta in via la marmora ma sposta i laboratori, l'abbiamo letto poco fa, si sposteranno in provincia di Udine, una parte, quindi sarà concentrata a Toreanno di Martignacco, dove pagheranno questo affitto all'entefiera. Vidalì ripresentata la Trieste Grado, Adriatica è garanzia di sicurezza, domani mattina avremo la prima corsa dal Molo Audace, abbiamo avuto 12 ispezioni per ottenere la certificazione, il battello che tiene Mare Forza 4, Vento Forza 5, vediamo la presentazione in uno scatto davanti proprio all'Adriatica. Ieri mattina abbiamo raccontato, sempre sfogliando il quotidiano al piccolo, di un incidente mortale che era avvenuto a bordo di uno scooter contro un'automobile. Ancora le generalità non erano riportate, essendo avvenuto durante la tarda sera. Oggi abbiamo il nome di Ares Veorgia, l'uomo ragazzo aveva 32 anni, deceduto appunto in questo scontro contro una 600, possibile chi sia stato travolto dall'auto. Schianto in scooter, la vittima era un cuoco, il titolo per l'incidente che è avvenuto in strada nuova per Opicina. Il mistero del fisioterapista scomparso, Rinaldi, nessuna traccia ma si continua a cercare. Vediamo ancora il volto del fisioterapista triestino Raffaele Rinaldi, dal quale ormai non abbiamo più tracce da oltre una settimana. Lui ha 50 anni, scomparso domenica scorsa vicino a Cogne. Chiudiamo invece con Muggia, l'ultima notizia per l'edizione di Trieste. Consulta delle associazioni, un caso, le dimissioni di sera. Muggia il passo indietro della presidente. Capogruppo Dem Bussani, costretta a lasciare dalle pressioni della Giunta, la replica del sindaco Polidori menzogne. Noi abbiamo cercato una soluzione, così ha affermato. Andiamo nell'edizione invece della Gorizia Monfalcone. Come facciamo tutte le mattine, ne approfittiamo anche per dare il buongiorno e salutare quanti sono sintonizzati con noi anche dal territorio legato all'Izontino. Si apre con Gorizia. Candidati sindaco sono in disaccordo su mercato coperto e piano del traffico. Abbiamo avuto il confronto mattutino. Si è tenuto al Kinemas voluto da Confcommercio. Tutti contro uno, ovvero Ziberna. Ma i botta risposta sono stati, riportano, comunque educati. Vediamo le immagini e poi ancora a destra quelli che sono i candidati che ieri si sono confrontati in ordine sparse sulla programmazione per la capitale della cultura. Fra annunci e necessità poi hanno detto anche di creare più posti letto. Goddi non lascerà il direttivo. Ho sempre rispettato lo statuto. Tiene banco il caso, ancora una volta, delle violiniste russe che sono state escluse, ovvero estromesse dalla Lipizer a replicare al presidente del Sodalizio e la candidata della lista Faziolo. Rifiuti non passa il piano tariff. L'ultimo consiglio con nervi tesi, assemblea cittadina, dove affermano sono stati scongiurati i rincarichi, abbiamo letto ieri mattina così annunciati, del 25%. Bisognerà però attingere dal bilancio comunale in parte corrente per congelare questi prezzi. Nuova e probabilmente ultima seduta di questo mandato per il consiglio comunale che ha affrontato questo nodo della Tari. Sagrado due imprenditori interessati all'ex deposito di munizioni. La pagina seguente ci porta in città a Monfalcone. Si parla anche qui di tassa, rifiuti aumentata per i conti di disambiente, ma anche in questo caso vanno a congelarla. I municipi che addeguano la Tari, ma il sindaco Gisint che boccia questo piano sbagliato facendo insorgere il centro-destra. Alcuni colleghi dicono in ballo abbiamo almeno mezzo milione di euro. Raccolta delle mondizie sopra nell'immagine, e poi tutto rinviato al 2023 si pagherà come l'anno precedente. Non scarichiamo gli errori sui cittadini, ha affermato la Cisint. Le tariffe sulle utenze di famiglia e attività fratta. Ora si sblocchi l'avanzo di bilancio. Primo cittadino di San Canzan che chiede al governo di poter utilizzare quei fondi anche per spesa corrente, non solo per gli investimenti. In breve vediamo i titoli da altri comuni nell'Izontino. Il convegno dentro la guerra russo-ucraina, la genesi storica di un conflitto. A Ronchi dei Legionari svolta benvenuto il modello Ronchi fra Renziani e Dem. Poi ancora per Ronchi sulla destra. Primo cittadino uscente, Vecchiet che lancia il libro sul passato ronchese e vuole il mandato bis. Andiamo con grado a concludere questa parte di trasmissione. Il procedimento, gli arresti di Casa Serena restano in carcere i tre operatori socio-sanitari. La misura cautelare messa dal GIP a seguito delle richieste della procura, gli indagati sono stati sottoposti all'interrogatorio da parte del giudice. Ricordiamo che sono accusati di violenze, minacce, ingiure nei confronti degli anziani indifesi. Ancora per grado, avviso pubblico del Comune, un elenco dedicato ai progetti del PNR parte alla ricerca dei professionisti. Con questo ci fermiamo solo un attimo. Siamo giunti quasi alla prima mezz'ora di trasmissione in questo ultimo giorno di maggio, il 31. Ripartiremo grazie al gazzettino del Friuli Venezia Giulia. Tra poco piccolo break e poi news cappuccino e brioche. Cambiamo quotidiano, diamo il tempo alle persone in tv di prepararsi, quindi andiamo, lasciamo questo minuto di pubblicità e noi così approfittiamo per leggere qualche messaggio insieme. Va bene, grazie ancora per i tanti messaggi. Ancora mi dice Ettore, perché chiamano Novax i medici contrari a certi discorsi omologati? Il messaggero dovrebbe essere attento con le parole. Grazie Ettore, gli ho messo anche un like. Perché Ettore, la stessa cosa era successa anche all'Assemblea dell'Ordine degli Infermieri. Quando appunto avevano riferito, non passa l'Assemblea il rendiconto, il bilancio, per colpa dei Novax. Ma non erano tutti Novax. Cioè, siamo attenti, c'è un scontento, c'è un disagio tra questi operatori sanitari, sia medici e infermieri. Per cui sposo quello che dici quando attenzione a chiamare chi è contrario a ciò che succede, Novax, perché almeno stando a quanto so e appunto anche visto e ho ascoltato con testimonianze dirette, non sono tutti Novax. C'è un disagio comune a chi è contrario alla linea degli ordini, sia dei medici che degli infermieri. Grazie caro. Tra un po' leggerò anche il tuo commento. Poi Gioia mi dice complimenti ai medici di Udine e alla dottoressa che ha estratto l'orologio. Gioia Tossi oggi spezza una lancia a favore del reparto dell'ospedale di Udine per questo intervento delicatissimo che ha evitato il peggio a quest'uomo. Poi Sergio mi saluta, Sergio Mirati che mi dà il buongiorno Roberto come tutte le mattine. Buongiorno chissà dove sei oggi, se sei in viaggio oppure a Udine. Fede Dececo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, mi scrive la nostra insegnante. Buongiorno Fede, dai che manca poco, quanto mancano 10-11 giorni alla fine della scuola almeno per i ragazzi. Poi per te so che dovrai procedere ancora per qualche tempo, è vero, per altre settimane. Angela mi dice che c'è il sole nella bassa ma fa freschetto. Beh, il freschetto ce l'abbiamo un po' tutta la regione però aggiungiamo anche che secondo gli esperti previsori dell'Osmer da domani fino, dalla notte di domani e giovedì arriverà il gran caldo. Quindi questo fresco, car Angela, ce la durerà pochissimo ancora per la giornata di oggi. Da domani già si svolterà, si cambierà pagina rispetto alle temperature. Francesco Snidero è in regia, oggi non c'è Tiziano, c'è Francesco e mi dice che mancano veramente pochi 10 secondi circa. Saluto Hermes che si è appena collegato. Hermes Pandolfo, super fotografo. Ok? Ritorniamo in tv sul canale 11. News, Cappuccino e Brosci riparte alle 7.01 di questo 31 maggio. Il buongiorno e la buona giornata a chi è collegato con noi in diretta di mattino presto, ma poi salutiamo come sempre quanti scelgono di così seguire la rassegna. Poco più tardi, all'ora 8 e mezza, quando tutto viene ritrasmesso, tanti ancora messaggi che continuano ad arrivare oggi a farla da padrone è l'argomento dedicato proprio a quanto successo come ora affronteremo anche mediante il gazzettino del Friuli Venezia Giulia con l'Assemblea dell'Ordine dei Medici riviata ancora una volta. A proposito, abbiamo anche una considerazione del nostro telespettatore Ettore che scrive perché chi amano Novax medici contrari a certi discorsi omologati dovrebbero stare attenti con queste parole. Questo è almeno uno dei diversi messaggi che sono arrivati a riguardo questa mattina. Poi non solo messaggi rispetto a questo argomento ma anche l'altro da parte ad esempio di Gioia Tossi che ci scrive complimenti ai medici di Udine alla dottoressa che ha estratto l'orologio un'altra notizia che abbiamo letto insieme nella prima mezz'ora rispetto a quanto accaduto domenica sera all'ospedale di Udine dove è stato salvato in extremis un ultracinquantenne. Ripartiamo dal gazzettino lo vediamo già in sovimpressione Confindustria FVG alla conta per il leader apre l'edizione di oggi si complica la gestione del dopo bono tensioni tra Udine Pordenone Trieste voto che è previsto per il 9 giugno il diverso peso in consiglio delle due associazioni ancora sotto un pool di imprese che inventa un sistema ecologico per ripulire gli scafi delle barche insomma è made in FVG questa innovativa tecnologia ecosostenibile per la pulizia delle carene delle barche nove imprese regionali ripuliscono le chiglie rimettendo l'acqua pulita nel mare prototipo al salone nautico di Venezia accanto le vittime senza voce la strage di Peteano le rivelazioni di Vinci Guerra distolsero l'attenzione dalle famiglie poveromo Ferraro e Don Giovanni la memoria riaffiora attraverso una moglie e una nipote un'intera pagina oggi dedicato con questo 50 anni fa il ricordo dell'autobomba vediamo anche i resti sopra della 500 esplosa la sera era il 31 maggio del 72 quando si uccisero tre carabinieri ferendone poi altri due come hanno sotto riportato nel dettaglio in un libro la storia di Rita e delle brigadiere di Mossa che morì 13 giorni prima della nascita della figlia Antonella sulla destra un'ulteriore nota Luigina Don Giovanni ha liberato l'anima scrivendo una tesi sull'attentato che ha segnato la sua famiglia usciamo da questo e andiamo invece con le scuole protesta degli insegnanti ieri in alcuni casi disagi nelle scuole anche del Friuli Venezia Giulia chiuse per sciopero siamo gli stadali pagati di meno ecco la denuncia e anche l'appello per un salario più eco e corretto l'adesione è stata superora al 50% in alcuni istituti pur aperti però mancavano i docenti al sit-in davanti alla prefettura di Udine alcuni genitori che dicono le riforme sono inutili cavalieri del lavoro nominati Balbinot e Rosi Zuliamni sotto vengono riportati i dettagli andiamo con il campo nomadi a Udine l'acqua contata dopo le bollette da capogiro abbiamo avuto l'intervento ieri mattina è stato sistemato il vecchio pozzetto all'esterno dell'area abdemaniale è stato installato almeno ha riferito così Ciani un limitatore che andrà a erogare non più di 10.000 litri d'acqua al giorno sappiamo che sono gratuiti per loro vediamo qui un'immagine di quello che è stato poi lo scatto che ha accolto proprio quel momento in cui è stato posizionato e anche installato lo stesso limitatore d'acqua dopo il caso degli sprechi del quale ci eravamo già occupato molto tempo fa l'assessore Ciani quindi dice chi consuma come se avesse una piscina olimpionica deve pagare a destra la storia il caso della cagnolina smarita da oltre 13 anni che ritrova il suo padrone torna a casa ma tutto questo grazie alle guardie zoofile dell'organizzazione internazionale di protezione animali con la loro sigla OIPA di Udine una storia che ha davvero dell'incredibile con il ritrovamento grazie anche all'importanza ricordano nell'articolo del microchip proprio nell'animale col quale sono proprio riusciti a rintracciarlo la polemica e rifiuti battaglie in consiglio sulla raccolta porta a porta ancora polemiche a una la nuova tari che accende lo scontro in consiglio comunale medici in assemblea ordine dei medici ne abbiamo parlato diverse volte molti messaggi questa mattina sono arrivati da parte vostra per commentare quanto è successo l'intervento eppure le denunce da parte della polizia una vera e propria barahonda scrive il giornale secondo round dopo la bocciatura del bilancio spintoni urla abbiamo dovuto separare dei colleghi è stato presentato un esposto in procura perché domenica in prima convocazione non c'era nessuno in sede barahonda ieri nelle prime righe si legge con la chiamata discussione del bilancio che il 28 aprile era stato affossato uno scarto di pochi voti a causa dei veti incrociati di alcuni così i ribelli tra virgolette li definisce il quotidiano di varia estrazione spinti da ragioni che sono molto diverse tra loro non si tratta di solo Novax come riportato anche in altri quotidiani il presidente uno spettacolo non edificante o faticato a sgombrare l'aula arriva la testimonianza del presidente dell'ordine dei medici Gianluigi Tiberio che si è visto affossare il bilancio da Franchi Tiratore il primo round e poi ha dovuto sospendere la seduta il secondo e si dice molto addolorato con il consiglio per questi comportamenti aggiunge che ledono pesantemente però la professione il caso per l'ospedale di Udine ingoia un orologio ma è stato salvato grazie a questo delicato intervento all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine protagonista della vicenda un 52enne che aveva inghiottito un orologio è stato salvato in extremis chiudiamo con l'ultima pagina del gazzettino la prima notizia in alto emergenze la centrale unica punta a rafforzarsi entro un anno avremo la scelta di accorpare anche tutto il personale e mezzi poi ieri il vice governatore della regione Riccardi aggiunge lo faremo entro alla fine della legislatura chiudiamo con la notizia di cronaca nera erano pancavano pochi minuti ieri mattina alle ore 11 quando sulla provinciale 95 la strada ferrata in comune di Varmo due mezzi si scontrano un tir e a bordo dell'auto in una Volkswagen Golf muore un uomo di Lignano un anziano in auto si stava immettendo sulla strada ferrata e la vettura è stata centrata da un camion la vittima aveva 84 anni risiedeva Lignano sabbia d'oro l'uomo forse non si è accorto del mezzo che stava sopraggiungendo l'epilogo è davvero drammatico vediamo la Golf completamente distrutta tra le lamiere l'uomo che rimane incastrato poi gli operatori del soccorso sanitario allertati dal NUE 112 inviati sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell'uomo oggi riportato in un ampio articolo sempre appunto grazie al gazzettino noi per ora ci spostiamo usciamo da qui e torniamo invece nel messaggero veneto continuiamo a parlare per quanto è la notizia principale oggi riportata nel messaggero veneto uno scontro senza fine si legge all'ora dei medici l'assemblea salta ancora divisioni su Novax sospesi e sulle diverse posizioni politiche scrive il giornale interviene la polizia il presidente motivi di sicurezza l'opposizione sapeva di non avere i voti l'asuf e si aggiungono invece posti si aggiungono invece altre novità tra la quale la riduzione di posti letto in ospedale per poter garantire le fere agli operatori sanitari infatti da mercoledì 8 giugno la struttura ospedaliera di medicina interna 1 chiuderà per riaprire il 3 agosto quando invece a interrompere l'attività sarà la medicina interna 2 che chiuderà e riaprirà il 28 settembre abbiamo insomma una rimodulazione delle stesse medicine dei suoi posti letto per far spazio alle ferie riposo per gli operatori classi sovraffollate poche risorse si cambia argomento si parla di scuola il personale contro il governo la protesta davanti alla prefettura con bandiere striscioni maestro e professore costretti ad aggiornarsi a proprie spede così vanno a denunciare vediamo sopra le immagini il confronto poi anche con il prefetto ancora bandiere sindacati e la manifestazione per quanto concerne i temi poi della protesta che vengono sintetizzati in uno schema sempre nel giornale un pochino più a destra cosa vogliono i sindacati per la scuola abbiamo quindi qui un po' tutti gli argomenti elencati sono a rischio le aree di montagna piccoli istituti le lingue minoritarie il segretario regionale F.L.C.L.G.L. si deve valorizzare il nostro territorio dice dal punto di vista culturale poi investire di più secondo i sindacati regionali allo sciopero avrebbero aderito il 60% del personale dirigenti a sostegno l'adesione però è inferiore a quella che hanno indicato i sindacati questo 60% che abbiamo appena citato sarebbe rivisto rimodulato o comunque inferiore stando ai dati che vengono contestati da parte dei dirigenti il consiglio comunale il comune pensa dei contributi per la tassa rifiuti sono stati stabiliti fondi pari a 1,6 milioni per le utenze domestiche passa a maggioranza quindi la tariffa Tari per il 2022 che prevede l'incremento del 3% medio è stato installato al campo nomadi un riduttore così si dimezzeranno i consumi d'acqua al campo da quando lo spreco si invia a Monte Seibusi è stato portato alla luce era lo scorso 17 febbraio sono trascorsi tre mesi dopo tre mesi vediamo l'assessore Ciani durante la posa di questo riduttore al campo poi ancora con le sue dichiarazioni chi spreca l'acqua come fosse una piscina è giusto che la paghi servizi educativi per accoglienza e dopo scuola le domande possono essere accolte entro il 18 luglio abbiamo ancora due notizie in breve per la città di Udine prima di fermarci un momentino e poi proseguire la nostra rassegna eccolo qua sulla sinistra abbiamo l'incredibile storia di loro che ritrovano la cagnolina dopo a distanza di 13 anni li vediamo nelle foto Alessandro Colaneri e Ivana Cescutti che ritrovano Alba in alto a destra la cagnetta e poi sotto insieme ad Aaron il titolo smarriscono la cagnolina nei campi dopo 13 anni Alba è tornata a casa la cercavano per giorni e giorni casa per casa fingendo anche diversi volantini ma sabato la telefonata da parte del canile l'abbiamo ritrovata Udine estate turismo slow in città sette visite guidate si potranno fare da giugno fino a settembre è il momento dell'ultimo piccolo break insieme e dopodiché continuiamo con lo sfoglio dei quotidiani in edicola grazie alla nostra edizione il 31 maggio di News Cappuccino e Brioche salutiamo le persone che rimangono collegate con noi ancora buongiorno a chi ci segue sui social network facebook e non solo youtube streaming lo dico spesso ma lo giusto anche ricordarlo tra un po' appunto ripartiremo per quanto riguarda la montagna medio friuli non solo collinare basse friulane poi destra tagliamento ripartiremo proprio da Tolmezzo da qui da questa fascia di territorio allora tanti tanti messaggi mamma quanti allora saluto Paola che dice buongiorno Roberto e buongiorno a tutti poi Fede che fa la domanda che tutti ieri hanno fatto io compreso Fede la domanda è ma come si fa di inghiottire un orologio e perché questa è una bella domanda al quale il 52enne deve dare una risposta perché è tutto bello salvato in extremis intervento super bene complimenti al reparto dell'ospedale di Udine ma poi ci deve spiegare come ha fatto ad ingerire l'orologio giustamente Fede fa la domanda che ieri centinaia se non migliaia di persone hanno fatto anche nella nostra pagina a commento dopo aver pubblicato la notizia abbiamo la Irene che scrive caro collega buongiorno la storia del ritrovamento della cagnolina dopo 13 anni assurda aveva microchip pertanto quel cane è stato sequestrato l'ha tenuto avrebbe potuto tramite lettura del chip da parte di qualsiasi veterinario riconsegnarlo a legittimi proprietari o per 13 anni non si è mai recato da un veterinario su via e sì Irene secondo quanto riportato dalle guardie cinofile è successo questo l'hanno preso se ne sono impossessati senza mai denunciare la scomparsa di un cane che avevano ritrovato questo sintetizzato per cui quel microchip non è mai stato letto ok almeno stando a quanto riferito non lo dico io va bene grazie anche per questo intervento e precisazione giustissima Davis buongiorno Roberto buona giornata a te a tutti i tuoi telespettatori da Azzano decimo ciao Davis manca poco dieci giorni dodici giorni e andiamo alle elezioni Davis è vero o no o sei sei stanco fammi sapere come sta andando dai che ad Azzano il clima è sempre più acceso anche quello politico e tra un po' lo spegneremo dai che non manca molto questa corsa alle elezioni e al voto delle comunali Francesco mi dice che manca meno di un minuto per cui benissimo abbiamo la possibilità di fare altri saluti facendo anche il punto della situazione perché si fosse collegato tardi questa mattina o magari dopo le 7 noi siamo in diretta dalle 6 e mezza del mattino abbiamo visto davvero un sacco di informazioni tante notizie un po' tutto quello che è successo ieri anche la tragedia è avvenuto lungo la strada ferrata la provinciale 95 dove ha perso la vita un anziano che mettendosi nella strada proprio ferrata è stato travolto da un camion che passava lui appunto che ha perso la vita questa è una triste notizia che abbiamo visto questa mattina ma non solo questo abbiamo parlato anche di altro dello scontro nell'assemblea dell'ordine dei medici che non passa per l'ennesima volta e quindi poi anche il richiamo da parte delle forze di polizia poi tantissime altre news che potete riascoltare più tardi alle 8 e mezza in replica ora però torniamo in tv sul canale 11 del digitale un ultimo spazio a nostra disposizione con news e cappuccino e brosce nell'edizione odierna del 31 maggio 2022 ancora la buona giornata e ben sintonizzati con noi ci siamo lasciati poco fa uscendo proprio dalla città di Udine che abbiamo analizzato diverse notizie grazie sempre al messaggero ora però andiamo solo titoli dai vari comuni fino alla bassa frulana per poi dedicarci invece a un altro territorio che è quello della destra tagliamento ripetendo anche dalla città di Pordenone a Tolmezzo il no al declassamento dell'ospedale si lavora intanto per la riapertura dell'RSA i tre candidati sindaco si stanno misurando sull'argomento legato alla sanità tema su cui si è spaccata l'amministrazione uscente li vediamo Fabiola De Martino Marco Craico e Roberto Vicentini afferrano è importante affrontare la carenza di medici guardie mediche fondamentale agire per chiedere assunzioni necessarie a tutela dei posti letto a Sutrio sparse sul monte Tenchia le ceneri di nodale Paolaro lavori alla rete idrica una giornata di disagi per Arta Terme il ministro Garavaglia la visita al centro termale dal ministro proprio lo vediamo anche nell'immagine sotto riassunto ad integrazione della notizia si procede nella pagina seguente il telegramma dal Vaticano belle inizioni a 23 bambini per la prima comunione siamo a Cassacco Monsignor Straulino che ha letto il messaggio durante la messa una copia che è stata donata anche ai ragazzi le loro famiglie vediamo i bimbi che domenica hanno ricevuto la prima comunione proprio nella chiesa di Cassacco Gemona del Friuli senza guardia medica l'ospedale bloccato l'opposizione insorge sindaco e la giunta solleccino presto l'amministrazione regionale l'assessore alla sanità affinché diano risposte ai cittadini questo è il loro appello San Daniele un nuovo gruppo comunale nell'Aido FVG pervenzione riapre dopo due anni invece la mostratiere Motus Fagagna aumenta la tassa sui rifiuti il rincaro per Fagagna è del 5% tercento Follador si candida Nimis in consiglio arriva Fasone l'ex assessore ai lavori pubblici dice un atto dovuto nonostante gli impegni di lavoro sindaco Steckap ti ringraziamo chi parte da noi alla cultura ha lavorato bene vediamo i due volti Giuseppe Fasone sulla sinistra a destra invece la Beatrice Follador che abbiamo da poco citato Premariacco da una pista nel verde decollano gli aerei e i sogni dell'associazione Fly and Joy abbiamo visto sopra anche l'immagine a giugno dello scorso anno hanno festeggiato infatti il 25esimo anniversario dal primo atterraggio sui prati di Casali siamo appunto tra Premariacco ed Orzano a Castions l'addio a Del Sal l'imprenditore e sportivo è stato vinto da una malattia a 65 anni titolare dell'edilpitture faceva parte del circolo Sergio Manente domani si terranno i funerali dell'uomo a Morsano vediamo le immagini con Terenzio sulla sinistra deceduto a 65 anni un pochino più a destra un'immagine giovanile con la sua divisa calcistica a Pradamano da giovedì a domenica torna la festa dell'unità giunta la 73esima edizione San Giovanni al Natisone barchessa di Villa Nebrandis si al progetto di riqualificazione Medio Friuli Codroipo ancora verso il voto venerdì abbiamo il confronto tra candidati sarà moderato dal Messaggero Veneto dalle ore 20 si terrà al teatro il dibattito con Mauro per il centrodestra Nardini Polo Civico PD e Gazzit di Italexit vediamoli accompagnati anche dalle immagini sotto per Talmassons una giornata sotto le stelle l'11 giugno col comune stelle oggi che appunto vengono rassunti in un articolo e poi tutto il programma di questo speciale evento che si terrà proprio anche all'osservatorio il decesso e ancora il tragico schianto vediamo sulla sinistra subito il volto dell'uomo al pensionato che era al volante di una Volkswagen Golf quando immettendosi lungo la provinciale 95 strada ferrata è stato travolto da un camion lui si chiamava Giorgio Lupieri 83 anni qui sopra alcune fotografie scattate poco dopo il terribile incidente che è avvenuto pochi minuti prima di ieri mattina alle 11 a Madresio di Varmo l'anziano per lui estratto dalle lamiere dai pompieri non c'è stato nulla da fare per il medico si è solo potuto constatare il decesso il titolo è questo muore nell'auto finita contro il tir la vittima Giorgio Lupieri risiedeva a Lignano la vettura è stata trascinata per metri illeso invece il camionista il sindaco di Lignano Fanotto dice è un dramma i familiari arrivino le condoglianze dell'amministrazione e poi dolore da parte di tutta la comunità anche per come è purtroppo deceduto l'uomo la tragedia di Codroipo in centinaria invece hanno dato l'ultimo saluto a Mauro Caporale ricorderete l'uomo di 40 anni deceduto dopo essersi schiantato nell'avio superficie del casale di Codroipo poco dopo il decollo con l'orario modello andiamo a destra ancora invece per grado l'abbiamo già visto e restano in cella i tre operatori arrestati a Casa Serena tra questi abbiamo anche una persona un'operatrice sociosanitaria residente a San Giorgio Fiumicello Guard Guard Rail cedette tir precipitò prosciolto anche un friulano a San Giorgio ancora la bassa in bici alla scoperta delle antiche chiese per Cervignano video e conferenza sull'oasi verde dell'Obiz Santa Maria La Longa la maggioranza sicura il cavalcavia sulla SP71 sbloccato dalla regione Torviscosa insegnanti all'unni presentano T-Factor si chiude con le ultime tre notizie la prima riguarda Lignano il servizio e la sanità apre servizio d'emergenza sarà operativo dal prossimo weekend Pentecoste da domani prende il via poi guardia medica da venerdì invece il punto di primo intervento al lavoro ci saranno quattro professionisti direttore generale di ASU caporale dice così riusciamo a garantire l'attività vediamo anche la foto dell'immagine appunto del punto di primo intervento di Lignano che aprirà venerdì successo gara mondiale di danza orientale la vice campionessa è friulana siamo a porpetto a Lignano ancora questa sera ore 20 e 30 al sine city di Lignano gli aspiranti sindaco si confronteranno un evento curato dal messaggero vediamo i volti e i nomi Cristina Clementi Laura Giorgi Alessandro Marosa e Alessandro Santin rispetto al confronto che si terrà a Lignano per i prossimi candidati a sindaco ed ora invece ci spostiamo andiamo subito nella destra tagliamento con il buongiorno e il saluto a quanti sono collegati sintonizzati con noi anche da questo territorio patto e vediamo la prima pagina che è diversa da quella della provincia di Udine patto tra comuni per rilanciare l'area del noncello mentre invece sotto in prima pagina l'immagine funerali del bancario precipitato con l'aerodal abbiamo da poco nominato Mauro Caporale a 40 anni che è morto nello schianto a bordo dell'ultraleggero detto questo allora ci spostiamo direttamente all'interno per avere e vedere insieme diverse notizie legateci partendo da Pordenone l'intera provincia il contratto tra tre comuni per rilanciare il noncello ma intanto pochi eventi oltre ai municipi di Pordenone Purcie e Cordenone se coinvolti eventi e associazioni ci vorranno tre anni per realizzarle intanto imbarcadero e riviera non sono sfruttati così affermano paludette su vincolo molinare i residenti non temano non ci sarà la cementificazione quella così almeno tanto temuta affermano vediamo allora le immagini di quanto già letto in prima pagina per Pordenone l'arrivo della barra sulla sinistra per Mauro Capurale un primo piano poi della vittima e il celebrante proprio stalla che è stata una fase del rito funer che è richiamato a Cordenons centinaia di persone il titolo funerale di Mauro è un annuncio di vita 6 speciale cammina con noi l'addio a Capurale bancario morto a Codroipo nell'incidente aero restano gravi intanto le condizioni del pilota Vianne rifiuti Gea rilancia solo da noi un'offerta per i comuni montani il servizio conteso la società che ha formalizzato la proposta per il Nopo Snua già 12 municipi hanno azioni una loro fuga porterebbe direttamente al Tar la scuola in sciopero anche nel Pordenonese l'abbiamo letto anche nella prima mezz'ora contro il governo CGL che dice a rischio ci sono pure i piccoli istituti Zonta 6 su 10 in regione hanno incrociato le braccia manca personale le periferie si stanno svuotando sempre di più mentre invece sono critici i dirigenti dicendo che questo 60% annunciato di attenzionismo o comunque che hanno incrociato le braccia non è un dato corretto almeno a detta loro saltiamo un inserto all'interno del giornale procediamo con altri comuni ancora ulteriori informazioni sempre dalla destra tagliamento per Pordenone l'intera provincia giornalismo e pallone abbiamo quella strana coppia si legge nella ulteriore pagina Quaia Pradella in cammino a Santiago l'ex direttore del piccolo e l'ex bomber di Uninese Sampdoria a unirli Polcenigo un'esperienza di solidarietà e anche di fratellanza poi 4-3 immagini a completezza della informazione passione calcio a 5 fra bancari BCC e Pordenonese Monsil sul podio torneo nazionale benefico all'ignano che è stato organizzato dall'istituto di credito 7.000 euro andati alla fondazione bambini a favore dell'autismo li veniamo anche con l'assegno in mano a Porcia un piano da almeno 1,5 milioni per eliminare tutti gli ostacoli alla mobilità via libera dopo l'approvazione in consiglio comunale presi in esame strade piazze parchi ed edifici pubblici tutto questo per agevolare quanti non possano deambulare si devono spostare con diversi mezzi mentre a Cordenons si continua a parlare del manto della vergine che ieri mattina abbiamo letto insieme nel quotidiano era stato distrutto dal fuoco la polizia ha sentito un nuovo testimone si tratta di una donna uscita dalla chiesa poco prima delle fiamme il rogo forse accidentale si è sviluppato tra le 15.50 le 16.05 vediamo quello che era il manto cucito dai fedeli e poi invece ciò che rimane per quanto riguarda dopo il rogo che lo ha colto il sì all'addizionale IRPEF per Sacile le opposizioni però insorgono funderò legacy si allontana l'idea di una coalizione che comprenda Forza Italia spicci GL Fratelli d'Italia la strana coppia contro la decisione della giunta a Prata Cescon in ospedale il confronto tra candidati che è stato rinviato lunedì l'attuale vice sindaco ricoverata dopo un lieve malore a ospitare il dibattito Asco messaggero veneto sarà il teatro pileo per cui nulla da fare al momento si rimanda il tutto alla giornata di lunedì ma parliamo ancora di politica andiamo a Dazzano Decimo con lo scontro tra Pannontine e Putto sull'età per fare il sindaco il parallelo tra le proprie figlie Gwyn del primo ha visto la replica del secondo Paolo diventò primo cittadino a 30 anni senza esperienza amministrativa così almeno vanno a fermare vediamo i volti di Marco Putto e Pannontine protagonisti della notizia ancora Zano Decimo a destra schiavo attacca Stefanuto un piano regolatore pieno di correzioni ma anche errori e dimenticanze San Vito al tagliamento si parla di Cronospan il comune che ricorre contro la regione finirà davanti al Tare il mancato inserimento delle osservazioni del municipio nella valutazione di impatto ambientale sicurezza pubblica per San Vito pulizia e rafforzamento dei corsi d'acqua sono pronti 90.000 euro e a Morsano lo scontro sulla ferrata del quale abbiamo già parlato nell'edizione della provincia di Udine Spilimbergo Lametex a ogni dipendente arriva un bonus di 2.500 euro l'azienda riconosce anche un buono carburante open day per le scuole decisa l'assunzione anche di nuovi giovani ucraini bloccati in Italia a causa della guerra accademia della cucina da asfro per gustare i piatti della tradizione sempre per Spilimbergo e chiudiamo con la giunta adottato il biciplan il logo creato dalla scuola mosaicisti l'ultima pagina è legata come sempre a Maniago in piazza la nicchia per i libri decorata dai piccoli consiglieri domani si inaugura lo smart looker bibliotecario ovvero l'armadietto intelligente questo nuovo metodo di ritiro e poi di restituzione dei volumi che saranno possibili farlo senza alcun tipo di orario la novità descritta all'interno del quotidiano oggi in edicola noi siamo arrivati in fondo alla nostra rassegna ringraziamo quanti ci hanno seguito e scritto mediante un messaggio e poi ancora il saluto e ringraziamento a Francesco Snidero che si è occupato della regia ha curato infatti la parte tecnica noi come di consueto ci ritroviamo nei prossimi appuntamenti vi auguriamo una buona giornata